accesa non è che c'è giù un po' di sforzo e basta pulire un po' no e appunto già lo sapevo che mi dicevi così ci sono giù tutte le foglie l'anno scorso c'è un cacchio a fare arrivano un po' veloce non la vedi neanche fampi così mi sembri una gallina no che stai pulendo figaro cosa ce n'è giù ragazzi veramente non ci sono andate via le foglie l'anno scorso è una salita e devi solo farla veloce con la curva lì e basta senza centrare l'albero possibilmente ecco una quella per andare alla faggeta solo un pochino più larga un pochino più in piedi se vuoi prenderla direttissima puoi fare da lì Ale lì c'è direttissima si si ma si può è un problema vostro ma io non gli ho risposto stavo tornando a casa questo qua bisogna tenerlo lì per tenersi la marina lascialo stare che poi ti attacchi e ti cadi addosso lascialo lì che va bene così dai va bene ma no andiamo su di fianco Vito non togliere la vedera e basta mi spiace per te ma tanto attacchi lo stesso sotto poi o sopra o sotto ci passiamo passiamoci passiamo quello lì di traverso che rompeva i maroni quello che taglia adesso il vito qua guarda quanto ce n'è giù quello è il pungitopo quello è il pungitopo è un sabato apporto il pungitopo ti hanno mai provato il pungitopo è successo quel pungitopo quando l'ho usato qua mi taglia qui si fai dentro solo il passaggio è un pungitopo non ci si fai dentro No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. e si è la mia amica è deciso io hai capito quello che gli ho detto cioè con tutta la buona volontà ma quella no sei pazzo quella è come la tuta del cifo bisogna fare un quadretto mi sono arrivati in questa settimana non ho ancora neanche guardati